ciao a tutti eccoci pronti per una nuova ricetta oggi facciamo qualcosa di molto fresco con una bella granita al pompelmo la faremo utilizzando lo stevia in modo che così resti a zero calorie per prima cosa andiamo a tagliare a metà un pompelmo maturo e andiamo a spremerlo non lo spremi a grumi ho premuto il pompelmo utilizzeremo anche un po della polpa perché è un peccato buttarla via così resta anche magari più cremosa la granita io ho preso un contenitore che può andare bene nel freezer questo di plastica ed è piccolino perché io la farò una dose per una due persone questo è tutto il succo del pompelmo andiamo ad aggiungere un po d'acqua io ne ho e poi dolcifichiamolo un po con lo stevia io ne metto un cucchiaino così vado ad aggiungere un po della polpa senza prendere i semi poi assaggiate regolatevi per lo zucchero a me alla fine un cucchiaino basta perché ho assaggiato e come dolce andiamo a metterlo nel freezer e per due o tre volte ogni mezz'ora dovremo andare a tirare fuori il barattolino dal freezer e a rompere i cristalli di ghiaccio che si stanno iniziando a formare per far venire la granita è trascorso un'ora e mezza da quando ho messo in freezer lo tolgo e inizio a mescolarlo un pochino con una forchetta per rompere i primi cristalli di ghiaccio che vedete che si sono andati a formare ecco ce ne sono abbastanza già ho lasciato trascorrere un'altra mezz'ora nel frigo adesso andiamo di nuovo a rompere un po i cristalli di ghiaccio che infatti vedete si sta addensando molto di più poi passiamo di nuovo un'altra mezz'ora nel frigo e andiamo di nuovo a mescolarlo un pochettino è trascorso un'altra mezz'ora vedete adesso sta prendendo proprio consistenza perché sta diventando proprio ghiacciata andiamo a rompere bene il ghiaccio sta diventando quasi granita ancora un po acquosa aspettiamo ancora andiamo a fare un altro giro di un'altra mezz'ora in freezer eccola dopo di nuovo un'altra mezz'ora di freezer e adesso direi che è pronta perché è abbastanza cremosa e ha fatto proprio i pezzettini di ghiaccio come la granita si può servire e mangiare buon appetito a tutti